Usura ed estorsione, due reati che continuano a mettere in ginocchio il territorio tarantino, dove alti sono i livelli di disoccupazione e precariato. Reati di cui si è discusso in un convegno in prefettura, dove ha preso parte anche il commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed anti-usura, il prefetto Santi Giuffré. Reati che periodicamente finiscono sulle pagine dei giornali locali. È il caso dell'estorsione di cui erano vittime i mitilicoltori tarantini o dell'organizzazione specializzata in usura che operava tra i comuni di Crispiano e Palagiano. Un fenomeno dunque che continua a crescere. Noi abbiamo ormai una crescita enorme dell'usura, che sicuramente è il nuovo fenomeno che deriva da tanti fattori, deriva da fattori legati alla crisi. Ma che tipo di assistenza fornisce lo Stato alle vittime? È un'assistenza che fonda sull'aver denunciato, sull'aver realmente denunciato, sull'essere realmente vittime. Il concetto è chiarissimo. Lo Stato ti aiuta perché aiutando la vittima fa ripartire l'economia nazionale. Quindi non assegni e somme erogate a pioggia, ma somme che servano all'imprenditore per ricostruire l'azienda. Allarmanti sono infatti i dati di Taranto presentati dal commissario. Nel 2015 il governo ha esaminato otto denunce per estorsione e ne ha accolte due, con un'erogazione di 137 milioni e 500 mila euro. Una sola denuncia per usura, invece, è stata accolta dal governo tra le sette presentate, con un'erogazione di 44 milioni di euro. Nonostante questo tipo di assistenza, però, le denunce non aumentano. Non abbiamo aumenti di denunce perché molte volte diminuiscono anche i danni, nel senso che, appunto, la criminalità non è più come prima che fai il botto, incendi il capannone e poi chiede il pizzo. Lo chiede prima. Come si può prevenire il fenomeno? Ma il fenomeno... Io prevenire, intendo fronteggiare il fenomeno, sicuramente sì. Questo lo si fa con una coscienza civile di legalità e là il ruolo delle associazioni è importante perché lo sono stati nel fare aumentare le denunce e ora lo devono essere anche per far crescere la gente. Quindi prevenzione, legalità, trasparenza e efficienza dello Stato nel dare l'aiuto concreto al cittadino.